Ciao, in questa lezione parleremo degli elementi della strada, quindi andremo a parlare del passaggio a livello, parleremo dell'isola di traffico, del salvagente, della banchina e del marciapiede. Se non l'hai ancora fatto, mi raccomando, iscriviti su questo canale, clicca la campanellina per rimanere sempre aggiornato sui miei prossimi nuovi video. Ma iniziamo la lezione! Il primo elemento che andiamo a guardare è il passaggio a livello. Passaggio a livello ce ne sono di tre tipologie, troviamo il passaggio a livello con barriere, con questo segnale di pericolo che rappresenta una staccionata, la segnalazione luminosa con una luce rossa fissa e i pannelli distanziometrici posti il primo a 150 metri, il secondo a 100 metri e il terzo a 50 metri dal passaggio a livello, in corrispondenza dei binari troveremo le barriere, quindi sia l'ingresso che l'uscita saranno coperte. Per quanto riguarda invece il passaggio a livello con semi barriere, il segnale di pericolo rimane invariato, quindi sempre lo stesso con al centro la staccionata, i pannelli distanziometrici non cambiano e quindi troveremo sempre il primo, quello che ti sto segnando con il pallino rosso a 150 metri dal passaggio a livello, il secondo 100 metri e il terzo 50 metri dal passaggio a livello. Quello che cambia è la segnalazione luminosa, infatti in corrispondenza di un passaggio a livello con semi barriere troveremo queste due luci rosse lampeggianti alternativamente. In corrispondenza dei binari come ti sto disegnando troveremo le semi barriere e quindi sarà coperto solamente l'ingresso. Per quanto riguarda invece il passaggio a livello senza barriere cambia il segnale di pericolo che rappresenta all'interno una locomotiva, i pannelli distanziometrici mangliano gli stessi quindi 150 metri, 100 metri, 50 metri dal passaggio a livello, segnalazione luminosa con due luci rosse lampeggianti alternativamente come il passaggio a livello con le semi barriere, quello che troviamo di nuovo è la croce di Sant'Andrea o la doppia croce di Sant'Andrea. Sarà croce di Sant'Andrea singola quella che ti sto disegnando con il numero 1 quando il passaggio a livello avrà solamente un binario, sarà la doppia croce di Sant'Andrea quella che ti sto disegnando con il numero 2 quando il passaggio a livello avrà più di un binario. Per quanto riguarda invece la banchina, avevamo detto che la banchina è un elemento della strada che non fa parte della carreggiata separato infatti da una linea continua che non permette la circolazione dei veicoli né la sosta né meno la fermata, salvo diversa segnalazione. Che cosa significa salvo diversa segnalazione? Significa che se sulla banchina ci fossero delle aree di parcheggio chiaramente i veicoli ci possono andare. La stessa cosa vale anche per il marciapiede che è una zona destinata alla circolazione dei pedoni sulla quale chiaramente i veicoli non possono circolare né sostare e nemmeno fermarsi salvo diversa segnalazione. L'attraversamento pedonale mi raccomando non lo devi confondere con il viale pedonale o il marciapiede. L'attraversamento pedonale è una zona che fa parte della carreggiata e quindi sono semplicemente le strisce pedonali sulle quali i pedoni hanno sempre la precedenza. In corrispondenza dell'attraversamento pedonale troveremo il segnale di indicazione che ci indica proprio che siamo in corrispondenza di un attraversamento pedonale. Il passo carabile invece è un elemento della strada che permette l'accesso alle proprietà laterali, ad esempio il cancello che porta dentro casa mia, il cancello che porta dentro un garage. Davanti al passo carabile troveremo sempre il cartello di divieto di sosta nel quale troviamo scritto il comune che ha rilasciato l'autorizzazione, l'autorizzazione numero dell'anno numero. Davanti al passo carabile come puoi vedere troviamo il segnale di divieto di sosta quindi mi raccomando ti devi ricordare che davanti al passo carabile non sarà possibile effettuare la sosta ma sarà possibile effettuare la fermata. Un altro elemento che devi imparare bene è l'isola di traffico. L'isola di traffico può essere di due tipologie, può essere un'isola di traffico rialzata oppure un'isola di traffico a raso ma andiamo a vedere di cosa si tratta. L'isola di traffico rialzata come nell'immagine è una situazione di questo tipo dove l'isola di traffico è proprio rappresentata in questo caso da una aiuola e quindi l'isola di traffico serve a incanalare le correnti di traffico nel caso in cui sia rialzata come in questo caso l'isola di traffico stessa è preceduta dal zebrature bianche e nere. Se l'isola di traffico invece è a raso quindi allo stesso livello dell'asfalto allora sarà costituita semplicemente da zebrature bianche e come puoi vedere da questa immagine l'isola di traffico è delimitata da strisce continue questo significa che sull'isola di traffico i veicoli non possono circolare non possono sostare e nemmeno fermarsi. L'isola di traffico quindi ha il compito di incanalare come ti sto facendo vedere le correnti di traffico semplicemente. Un altro elemento che devi imparare è il salvagente come può farti venire in mente il nome il salvagente serve al riparo dei pedoni pedoni che possono scendere o salire da un mezzo pubblico come in questo caso da un tram oppure semplicemente attraversare la strada. L'ultimo elemento che andiamo a guardare in questo video è la linea tramviaria anche in questo caso troveremo due tipologie di linee tramviarie troveremo la linea tramviaria promiscua e la linea tramviaria propria. Sarà promiscua quando il tram che è un mezzo che circola sulle rotaie alimentato da corrente elettrica sarà su un binario insieme agli altri veicoli come in questo caso quindi troviamo il veicolo rosso che ti sto cerchiando e nello stesso tempo troviamo la linea tramviaria proprio nella stessa corsia allora in questo caso sarà promiscua. È chiaro che i veicoli non possono intralciare la marcia del tram e quindi non possono sostare né fermarsi proprio in corrispondenza dei binari. Sarà invece una linea tramviaria propria quando il tram circola su una sede a parte quindi i veicoli stanno nelle loro corsie e il tram sta su una sede tramviaria propria. Se ti è piaciuto questo video lascia un commento sotto le descrizioni io ti aspetto con i prossimi capitoli. Ciao!